Anche quest'anno un programma ricco di iniziative diffuse in tutto il territorio. Sono oltre 70 gli appuntamenti per ricordare la Shoah. Incontri, conferenze, spettacoli, visite guidate sono molte le iniziative che anche in questo 2023 prenderanno vita con la celebrazione del Giorno della Memoria. Più di 80 gli enti, gli istituti e le associazioni che anche quest'anno hanno deciso di rinnovare la loro offerta culturale rivolgendosi ad un pubblico sempre più ampio con lo scopo di innestare una forte coscienza sociale e la conoscenza di quei tragici fatti storici per conoscerli e custodirne il valore e gli insegnamenti. È importante coltivare la memoria in un allenamento continuo perché la storia va ricordata soprattutto quella spiacevole ha ribadito Alberto Sermoneta, rabbino capo di Venezia. Per poter smuovere una coscienza, per poter far capire che quello che è stato non è finito ad Auschwitz ma potrebbe avvenire e tornare ad avvenire in ogni momento della nostra vita. Tra i tanti appuntamenti ricorrenti e fortemente simbolici, il 17 gennaio vi sarà a Venezia la posa di 24 pietre d'inciampo. Arriviamo in questi decenni a ben 159 pietre d'inciampo nella città di Venezia. Quest'anno peraltro siamo molto onorati della presenza dell'artista tedesco Gunther Demning che è l'inventore di queste pietre d'inciampo. Sarà un ulteriore momento di riflessione. Mezzo secolo dopo la Shoah, l'antisemitismo riappare in Europa e sta diventando un problema quasi mondiale. L'obiettivo del Consiglio d'Europa è di mettere alla berlina l'antisemitismo e concordare delle misure che consentano di favorire la comprensione e la tolleranza. Cosa bisogna fare per combattere questo antisemitismo? L'educazione è senz'altro molto importante, informazione di tutti, informazione nelle scuole, dei giovani.